Tutti conosciamo Tutankhamon e la sua splendida tomba, ma meno nota è la sua sposa, anche Esenamun. Prima di parlare della regina, sarà utile ricordare il periodo storico in cui visse, l'età amarniana. Nella nuova religione amarniana il disco solare diviene il creatore e faraone celeste, ma anche dio dell'aldilà, cui il popolo si può avvicinare per tramite del faraone, e non più del clero specializzato. L'impatto sulla popolazione fu però pressoché nullo, dato anche il rapido trasferimento della corte ad Amarna. La riforma non ebbe influenza sul sistema amministrativo, ma lo ebbe sul piano economico e artistico. Il re chiuse o limitò l'attività di alcuni templi, impadronendosi dei beni clericali, con un conseguente accentramento dell'amministrazione e dell'esercito. La limitazione dell'economia templare ebbe però effetti negativi. I documenti furono redatti nella lingua parlata correttamente.